Per quanto riguarda le comproprietà, Meggiorini è passato al Torino, ma insomma piste calde per quanto riguarda soprattutto una, quella che potrebbe portare al Parma o alla Roma, Borini, ma ancora l'accordo, Peppe, correggimi se sbaglio, non è ancora stato trovato, c'è tempo sino alle 19. Il tempo diventa sempre meno perché come dicevi tu Davide, intanto ben ritrovati dall'Atex Executive di Milano, mancano poche ore e i casi sono tanti che riguardano poi tante società, quello là più imponente anche dal punto di vista economico è quello di Borini e sembra quello più difficile da risolvere perché il Parma soprattutto ma anche la Roma sembrano decisi, è possibile che si vada alle buste che verranno svelate domani alle ore 12. Questi casi da risolvere, Mirco Antenucci ma nel pomeriggio è previsto un incontro tra Torino e Catania e si va verso un accordo, il Torino verserà nelle casse del Catania circa un milione e mezzo di euro. Bolzoni, c'è l'intesa tra Siena e Genova per il rinnovo della comproprietà del giocatore però non vuole rinnovare, almeno queste sono le indiscrezioni che abbiamo raccolto pochi minuti fa. Di Borini ne abbiamo parlato, di Diamanti c'è un'idea del Bologna di spendere 3 milioni di euro per la metà del cartellino, 3 milioni di euro che non bastano al Brescia. Ricordiamo che al Brescia, alla porta del Brescia ha bussato anche l'Udinese. Ekdal è un giocatore diviso tra Cagliari e Juventus, c'è stato un incontro stamattina con Marocco, tra Marocco, Marotta e Parati, c'è stato un incontro interlocutore, le parti si vedranno nel pomeriggio ma anche qui si va verso la schiarita. E infine Andrea Lazzari, qua davvero le buste sembrano scette tra Fiorentina e Cagliari. È stato risolto Meggiorini per 800 mila euro, è stato riscattato dal Torino e vi diamo poi una novità degli ultimissimi minuti perché poi spesso e volentieri qua arrivano soltanto dirigenti delle società o agenti FIFA. È arrivato un giocatore, Grillo, esterno sinistro difensivo del Varese, parlerà con Mauro Milanese e parlerà però anche con Nicola Salerno del Catania. Il Catania è interessato a lui, il Catania sarà allenato l'anno prossimo da Maran, Rolando Maran, Maran probabilmente una delle priorità di mercato può essere appunto lui. Grillo è qui all'ata di Milano e quindi tra poco magari vi faremo vedere anche con le immagini questo incontro. A proposito di immagini, ne abbiamo tante.